Mi confondo con Gian Paolo Minesi, questa sera un'emozione particolare, questa mostra allestita in Villa Juker nel ricordo del papà, in qualche modo è dovuto, da dove nasce questa iniziativa? Nasce sicuramente da mia madre che l'ha voluta con forza e anche da mio fratello che poi ha seguito la parte artistica e poi con un grande artista di Legnano che sicuramente merita maggiore attenzione da parte di tutti. L'opera è questa qua dietro che è il sole cedro, il sole simboleggia la forza e il cedro l'immortalità e l'eternità che sono un po' dei valori che potevano essere propri di mio padre e la volontà anche di fare un premio per associazioni che si occupano di beneficenza è proprio perché lui in vita lo faceva abitualmente ed è come se ci fosse ancora, è quello che farebbe se fosse in vita. Giampaolo in qualche modo hai sotteso già i valori, i valori che ti ha trasmesso il papà tra questi qualche aneddoto particolare, un valore che un po' ti ha inculcato e che poi stai portando avanti? Guarda, i valori che sono qui, quindi di essere forti e di non ragionare solo giorno per giorno ma di guardare avanti, che è proprio l'immortalità e l'eternità. Benissimo, grazie ancora.